Ciao ragazzi, io sono Ale e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi sto registrando di giorno, infatti come credo possiate sentire ci sono un po' di 5T di sottofondo che sperano non vi diano fastidio e più che altro ho paura che ci siano dei rumori, però spero vivamente che appunto non siano troppo forti perché non sono riuscita a registrare ieri sera e quindi è la prima volta praticamente che registrano un video di giorno. Comunque, sono pronto, prontissimo, molto carico perché ho appena fatto una passeggiata di due ore. Sì, sono partito alle 7 e mezza del mattino perché è fresco ma avevo già caldo dopo poco. Comunque, adesso vi voglio far sentire un po' di suoni con un colluttorio per questa nuova puntata di Relaxing Monday. Comunque, adesso vi voglio far sentire un po' di suoni con un collettorio per questo video. Comunque, adesso vi voglio far sentire un po' di suoni con un collettorio per questo video. Comunque, adesso vi voglio far sentire un po' di suoni con un collettorio per questo video. Comunque, adesso vi voglio far sentire un po' di suoni con un collettorio per questo video. Grazie. 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 Ok ragazzi, questo video è giunto al termine, spero che questa puntata di Relaxing Monday vi sia piaciuta, sinceramente questi suoni a me sono piaciuti, anche se alcuni erano molto molto delicati quindi non si sentiranno a un volume particolarmente alto, però secondo me sono un po' particolari, un po' diversi dal solito, comunque fatemi sapere cosa ne pensate. Ma detto questo io vi auguro la buonanotte, 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 buonanotte.